Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale YouTube di MCS Software. Questo video è dedicato ai clienti che spesso mi chiedono come poter utilizzare e sfruttare ArcVision RP in presenza di più progetti, più postazioni, lavorando in team, lavorando in work sharing o semplicemente potendo condividere il file RRF in più progetti. Come sapete il file RRF è il file che contiene tutto il vostro lavoro, le vostre configurazioni, delle misurazioni, dei criteri di computazione e può diventare comodissimo poterlo riciclare, riutilizzare anche nei progetti a venire, nei progetti successivi o appunto lavorando in più persone sullo stesso progetto. La caratteristica fondamentale è che si deve fare in modo che entrambi i progetti utilizzino le stesse famiglie, cioè lo stesso nome di famiglia. Io in questo caso ho volutamente tracciato due progetti banali, volutamente molto semplici e banali. Uno è il progetto 1 che usa un muro generico, l'altro il progetto 2 che usa volutamente la stessa famiglia, la stessa categoria, lo stesso tipo muro generico. Che cosa occorre fare in ArcVision? Allora attiviamo per esempio il primo progetto, andiamo subito in preferenze e opzioni e andiamo ad utilizzare la funzione percorsi file personalizzabili e condivisibili in funzione del progetto per la verità esiste già un video del 2019 che è focalizzato su questa tematica, ma visto la frequenza con cui mi viene fatta questa richiesta ho deciso di fare un video proprio specifico. Selezionando questa icona compare una maschera, una maschera che ci consente di configurare il comportamento del software, questa finestra di dialogo, ci consente di configurare il software dicendogli in presenza di un determinato file Revit dove stanno tutti gli altri file. Allora io adesso questa la seleziono e la rimuovo, quindi simulo la configurazione nuova di un nuovo progetto sottolineando il fatto che voi potete mappare o creare più associazioni di più progetti Revit facendo in modo che ogni progetto punti a determinati file che devono essere raggiungibili quindi file su cartelle condivise, su Dropbox, su Drive, file in locale, sul server. L'importante è che il vostro sistema operativo possa dialogare con queste cartelle in lettura e ovviamente in scrittura. Allora siamo in questa situazione, abbiamo due progetti, vogliamo fare in modo che sostanzialmente le configurazioni fatte nel progetto 1 vengano replicate nel progetto 2 quindi clicco sulla più il software, la prima cosa che mi chiede è di selezionare il file Revit da configurare vi ricordo che di default il software fa sì che il file RRF abbia lo stesso nome e lo stesso percorso del progetto Revit aperto questa è una forzatura che consente proprio di dire al software semplicemente qual è il percorso da utilizzare allora gli dico che il progetto in questione è il progetto 1 apro il progetto 1 la seconda domanda è quella di poter selezionare un listino allora il listino può essere un listino comune condiviso ma può essere anche il listino dell'elettrico, del meccanico, dell'architettonico, dello strutturale della camera di commercio, della regione ognuno può usare il proprio listino ma volendo si può usare un listino comune quindi in questo caso utilizzo questo esempio listino condiviso dopodiché il software mi chiede quale RRF voglia andare ad utilizzare in questo caso lo creo nuovo quindi gli dico che il mio file RRF è progetto underscore 1 eccolo qua salvo lui mi dice che non esiste mi dice ma lo vuoi creare? sì lo voglio creare dopodiché mi chiede qual è il file delle categorie anche i file delle categorie di default sono archiviati nella cartella del software ma volendo anche in questo caso posso puntare un file delle categorie condiviso quindi in questo caso sempre nella stessa cartella gli dico che lo chiamo per esempio categorie condivise proseguo velocemente anche in questo caso non esiste lo voglio creare? sì, certo a seguire mi chiede anche qual è il computo che devo generare quindi in questo caso posso generare un computo sul mio computer e quindi sarà un computo dell'entità che io seleziono nel progetto ma volendo anche il computo può essere condiviso quindi computo condiviso lo salvo lo creo e infine condivisione del file vbs opzionale quindi chi di voi utilizza il modulo vbs qua può configurare anche in questo caso una struttura vbs condivisa quindi struttura vbs condivisa bene creo la struttura e creo sostanzialmente tutta la mappatura da questo istante il software è consapevole che in presenza del progetto 1.rvt questi sono tutti i file che lui dovrà andare ad utilizzare salvo questa configurazione il software vede che il file delle categorie mancava quindi l'ha creato con le categorie di esempio di default del software e io posso lavorare quindi per fare un esempio mi concentro sul piano terra del progetto 1 quello che abbiamo appena configurato vado in associafamiglia e qui vado a creare le mie associazioni quindi velocemente facciamo una misurazione di esempio tariffa 100.100 velocemente muro generico unità di misura per esempio metri cubi facciamo 10 euro velocemente nome famiglia entità e poi come di consueto in questo caso lunghezza spessore e altezza e salvo il tutto vado magari a generare questo computo quindi dico esporta computo vedete che il software già propone il percorso che io non posso modificare perché è mappato diciamo forzato e a questo punto posso dirgli semplicemente prosegui e lui genera effettivamente un computo collocato nella cartella che avevo configurato in precedenza eccolo questo è il nostro semplice computo del nostro muro di questo segmento di muro del progetto 1 chiudiamo Primus in questo momento dobbiamo concentrarci su Revit torniamo su Revit e andiamo a mappare il secondo progetto quindi questo lavoro potrebbe essere fatto sulla stessa postazione ma anche su altre postazioni l'importante ripeto è far comprendere al software dove puntare quindi quali file utilizzare quindi ritorno su preferenze e opzioni ritorno su percorsi e file personalizzati qui esiste già la mia prima mappatura ne creo una seconda questa volta appunto al progetto 2 quindi gli dico di lavorare sul progetto 2 il listino può sempre essere il listino che abbiamo usato anche nel progetto 1 ma ripeto non è un problema l'importante è avere un listino da poter aprire mi chiede qual è il file rrf a questo punto a questo punto attenzione gli dico di usare il file del progetto 1 questo potrebbe essere anche ipotesi template potrebbe essere modello quando dico nei corsi che gli utenti che conoscono bene si creano dei template dei modelli di rrf è proprio questo che intendo in questo momento non gli dico progetto 2 perché? perché vorrebbe dire scollegarli ma se gli dico che anche il progetto 2 deve usare il progetto 1 e questo addirittura per semplicità lo cancello perché tanto di fatto non mi serve dico progetto 1 salva lui mi dà un avviso mi dice sostanzialmente attenzione stai lavorando su un file che è condiviso tra più utenti ma non è bloccante questo è soltanto un avviso non è un errore semplicemente mi sta dicendo fai attenzione perché? perché se faccio un errore nella configurazione di un criterio di misurazione sul progetto 2 in realtà rovino anche il progetto 1 perché il rrf che è il cuore di ArcVision dove ruota tutta la vostra configurazione è condiviso con tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi del caso a questo punto anche per le categorie potrei dargli un file categorie diverso oppure dirgli usa lo stesso file cat anche qua mi dà lo stesso avviso proseguo in sostanza mi sta dicendo guarda che le categorie saranno in comune condivise con entrambi i progetti e anche il computo posso fare un computo del progetto 2 oppure dirgli usa il computo condiviso esiste già lo vuoi sapere scrivere sì e poi nel caso della VBS posso dirgli struttura VBS condivisa il file non c'è perché semplicemente la VBS non l'ho ancora creata bene vedete in pratica abbiamo due configurazioni che sono sostanzialmente identiche vedete quindi tutte puntano allo stesso file rrf salvo e a questo punto nel momento in cui io vado a lavorare sul progetto 2 e seleziono il muro vado qui associa famiglia il software mi avvisa dice guarda che si è passato dal progetto 1 al progetto 2 il file è mappato stai lavorando su questo file questo è il listino che andrò a utilizzare questo è il file rrf vedete che è il file rrf del primo progetto poi c'è il file delle categorie il file del computo e il file opzionale del VBS questi percorsi sono sempre comunque modificabili nel dialogo opzioni quindi anche dovesse spostarsi una cartella dovesse nascere una nuova esigenza una nuova configurazione sono sempre comunque modificabili ecco che sto lavorando sul progetto 2 ma ho condiviso vedete tutto il lavoro fatto sul progetto 1 allora vediamo cosa succede prendiamo per esempio questa misurazione facciamo una semplice modifica quindi la lunghezza per 1.2 quindi maggioriamo il computo del 20% salviamo chiudiamo sto lavorando sul progetto 2 passo sul progetto 1 torno sul dialogo associa a famiglia il software nuovamente mi avvisa guarda che si è passato dal progetto 2 al progetto 1 ma il file rrf è sempre lo stesso quindi guardate cosa capita eccolo qua vedete ho condiviso il file rrf quindi indipendentemente che io stia lavorando sul progetto 1 o sul progetto 2 di fatto sto usando gli stessi criteri bene io spero con questo breve video di aver dato una panoramica su questa caratteristica di ArcVision RP che è estremamente importante produttiva ed è apprezzata soprattutto da chi usa e conosce ArcVision nel modo tradizionale di lavorare vi demando alle prossime video guide grazie ancora saluti Claudio Mussa grazie a tutti